Buonasera, so che vi aspettavate il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fortunatamente, nonostante gli impegni internazionali, il capo di Stato è riuscito a prendere l'ultimo volo possibile per raggiungere in tempo il proprio paese. Purtroppo da Parigi la connessione è instabile e quindi ha lasciato a me l'onere e l'onore di leggervi il suo messaggio. Care concittadini europee e cari concittadini europei della penisola a forma di stivale, l'anno che è passato ci ha visti europare con europeismo europeista, ma da domani europeremo con più Europa che mai. Qui non c'è in ballo solo l'Europa, ma anche l'Europa e quindi europeremo sulle spiagge, europeremo sui mari e sugli oceani, europeremo nei campi e nelle strade, europeremo sulle colline, noi non smetteremo mai di europare. Non chiedetevi cosa può fare l'Europa per voi, ma cosa voi potete fare per l'Europa. La parola d'ordine è una sola, europare ed europeremo. Certo, se europassimo con europeistica europazione l'Europa ne gioverebbe, ma cosa ne sarebbe dell'Europa. Tra l'Europa e l'Europa io scelgo l'Europa. Beati gli europeisti perché verranno europati. Vi auguro allora buona Europa, felice Europa e che possiate riscoprire con i vostri cari il calore dell'Unione Europea. E' probabile che prima o poi verrò spattuto al fresco. Se vuoi essere mio complice seguimi sui miei canali social e, sempre se vuoi, contribuisci a comprare il mio cesto di arance al link paypal presente nella descrizione del video. Grazie.